Michele Capalbo qui a Praia Mare per le ultime fasi ormai della finale del torneo di scacchi Riviera dei Cedri. Un resocondo di quello che è accaduto in questi giorni? Sì, diciamo che il resocondo per noi è molto positivo perché dalla manifestazione viene fuori che c'è stata un'invasione positiva del territorio da parte di tutte queste rappresentative di queste 17 scuole italiane. Ieri si è conclusa la manifestazione con la finale in una location affascinante, io ritengo una delle più belle location del territorio che è il palazzo rinascimentale di Aieta. Ricordo che ad Aieta da alcuni mesi è diventato Borgo più bello d'Italia, quindi è stato per noi un vanto poter segnalare questo ai ragazzi che sono venuti nell'occasione. Nella finale abbiamo avuto anche la soddisfazione che una scuola calabrese, partecipante all'istituto Fermi di Bagnera Calabria, è arrivata seconda. La finale è stata poi vinta invece dal liceo Cannizzaro di Palermo, ma anche la terza classificata è una scuola calabrese, il liceo Pitagora di Rende, per cui avevamo solo due rappresentative calabrese, le altre erano di tutte le altre regioni, però si sono ben comportate perché sono arrivate seconde e terze. Quindi vuol dire che anche dall'aspetto agonistico è stato un successo, perché vuol dire che queste scuole funzionano da questo punto sul gioco degli scacchi. Avete avuto anche la presenza dell'assessore Caligiuri, assessore alla cultura della regione Calabria? Sì, devo dire che con un sommo piacere noi l'avevamo invitato, lui si è presentato nell'occasione e devo dire che ha particolarmente colpito il suo interesse rispetto a questo tipo di manifestazioni, manifestato nell'occasione, e devo dire che c'è stato un grande riscontro positivo, perché poi abbiamo fatto un briefing con studenti, docenti di queste scuole, le quali sono rimaste particolarmente colpite dall'approccio del nostro assessore regionale, quindi dell'approccio dell'aggiunta regionale su questa tematica, perché ricordiamo che sulle nuove programmazioni della Comunità Europea è stato segnalato nel settore dell'istruzione l'importanza di utilizzare come materia di supporto alle attività didattiche proprio il gioco degli scacchi, quindi infatti l'assessore era ben conscio di questo e ha segnalato l'interesse della giunta regionale verso questa tematica, per cui ci aspettiamo che la Calabria possa diventare ancora più protagonista nell'utilizzo di questa metodologia del gioco degli scacchi nella didattica e quindi da un punto di vista di innovatività presentare un modello positivo a livello nazionale ed europeo. Adesso ci sono dei seminari di studio? Sì, perché infatti la particolarità del nostro festival è che c'è stato il connubio tra l'aspetto agonistico e l'aspetto didattico, per cui abbiamo avuto dei maestri dell'Accademia Internazionale di Scacchi di Perugia, che è l'unica riconosciuta dalla Federazione Scacchistica, abbiamo avuto anche il piacere di avere qui il Vice Presidente Nazionale della Federazione che appunto affascinato dai luoghi e dall'organizzazione, alla presenza dell'assessore Caligiuri ieri ha dichiarato un suo personale impegno a realizzare proprio qui in Calabria, qui in Riviera dei Cedri, un'edizione nazionale di finali under 16 che quindi coinvolge il meglio a livello nazionale di giovani talenti nel settore scacchistico. Per cui tenendo conto che in Calabria mai si era fatta una cosa del genere è già un grande risultato perché significherà portare qui centinaia e centinaia di ragazzi di tutta Italia, quindi sia per i risvolti di valorizzazione del territorio turistici ma anche di valorizzazione del movimento perché ovviamente questo significa un attestato alle azioni di qualità che partono dalla Calabria. Ieri sera una cena a chilometro zero, il sindaco di Aieta che è stato lì presente per tutta la manifestazione. Sì, dobbiamo dire un grazie grandissimo al sindaco di Aieta che rispetto a quello che come organizzazione ARCA organizziamo sul territorio è sempre presente, ci sempre dà una mano perché appunto capisce l'importanza della valorizzazione del territorio e visto che Aieta è un comune che ha questa bellissima location del Palazzo di Cimentara dobbiamo dire che quando noi organizziamo delle cose c'è sempre la sua piena disponibilità. Infatti anche lui è rimasto molto colpito da tutta l'iniziativa e quindi si è reso partecipe di questo anche perché abbiamo considerato in quell'occasione il concetto del turismo sostenibile che quindi significa non il tradizionale turismo mare ma il coinvolgimento delle aree interne la valorizzazione considerando appunto che è Borgo più bello d'Italia a Aieta ma ci sono tantissime altre zone dell'interno della riviera che sono altrettanto splendide e che quindi attraverso il concetto di turismo sostenibile si potrebbe lavorare soprattutto nella logica di gesto giornalizzazione verso queste location portando degli eventi in altri mesi quindi non nel periodo estivo sul territorio che valorizzano questo territorio, lo fanno conoscere e apprezzare. Si diceva lei prima giustamente la cena a chilometro zero perché anche questo era un concetto che abbiamo voluto portare avanti e devo dire che questi professori, questi ragazzi che venivano da tutta Italia erano affascinati perché non soltanto i piatti erano dei piatti a chilometro zero e quindi di valorizzazione della cucina locale ma poi avevamo pensato di inserire delle piccole note vicino a questi piatti che indicavano il loro nome e il perché è un prodotto di questo territorio e molti professori poi durante la manifestazione ci chiedevano un approfondimento perché sì i piatti erano buonissimi ma anche il concetto culturale legato a questi piatti li ha affascinati. Grazie 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 Grazie